Fedez ha invitato Selvaggia Lucarelli per un conf e non sulla questione personale relativa al caso della dei Pandori Balocco griffati dalla moglie Chiara Ferragni, ma per la vicenda di Matteo Mariotti, il ragazzo che il 9 dicembre scorso e non sulla questione personale relativa al caso del Mariotti ha raccontato la vicenda nell'ultima puntata del suo podcast Muschio Selvaggia Lucarelli, nelle scorse settimane, si è soffermata sulla campagna di beneficenza che alcuni amici del giovane in particolare, ha evidenziato l'assenza di chiarezza in relazione alla destinazione dei fondi Mariotti, ha rientro in Italia, ha criticato l'operato del Così dopo aver ospitato la versione del giovane, Fedez ha chiesto a Lucarelli a fornire la sua versione confrontandosi con il ragazzo Selvaggia noi siamo qua, Matteo è qua, come Così dopo aver ospitato la versione del giovane, Fedez ha chiesto a Lucarelli a fornire la sua versione Se tu rivendichi e credi in quello che fai questa secondo me è un'ottima piattaforma, non ci saranno tagli, sarà tutto un cut Se vuoi ti diamo tutte le garanzie del Noi siamo qua E ancora, io credo che una persona che ha fatto della trasparenza, del fact checking, della verità e il suo baluardo, secondo me, dovrebbe sedersi a un tavolo pubblicamente e dare delle E ancora, io credo che una persona che ha fatto Lucarelli è stata la prima ad accendere i riflettori sull'attività di beneficenza di Chiara Ferragni, analizzando in maniera approfondita l'operazione Pandoro-Ballocco e dedicando tempo e attenzione Lucarelli è stata la prima ad accendere i riflettori A dicembre, su Instagram è andato in scena un botta e risposta a distanza tra Lucarelli e Fedez, tra ora l'invito schietto a cui, al momento, non è seguita Lucarelli è stata la prima ad accendere i riflettori sull'attività di chiara